Per noi è un motivo di grande orgoglio partecipare a questo appuntamento così importante con un festival che rappresenta la marchigianità. Tramantici è nato lo scorso anno con la volontà dell'amministrazione comunale di promuovere e valorizzare uno strumento popolare che ha caratterizzato per oltre un secolo la storia artigianale di Mondolfo con produzioni di grande valore conosciute in tutto il mondo. Questo strumento è il simbolo di radici, identità e tradizioni con cui ci vogliamo presentare ai tanti turisti che verranno a visitare la nostra provincia e il comune di Mondolfo in questa settimana. Invitiamo tutti a partecipare, sarà un ricco calendario di appuntamenti con concerti di qualità diffusi su tutto il territorio che ci permetteranno anche di far visitare i luoghi più belli e suggestivi di Mondolfo e Marotta dal centro storico al mare. Saranno sette appuntamenti importanti, quindi ogni giorno ci sarà un concerto, e quindi sia alla sera ma anche concerti all'alba in luoghi suggestivi, il chiostro di Sant'Agostino e il bastione Sant'Anna a Mondolfo, in piazza dell'unificazione al molo di Marotta per quanto riguarda il nostro lungomare, quindi sarà un festival tutto da vivere con uno spettacolo straordinario tutte le sere. Grazie a tutti!